L'Assemblea Cittadina, promossa dall'Associazione Onde Donne in Movimento a Caltanissetta lo scorso 30 novembre 2022, ha dato vita ad un percorso di partecipazione chiamato Prendiamoci Cura e che vede attualmente coinvolte l'Associazione Liga Bue, Associazione Torrone di Caltanissetta, Collettivo Letizia, Etnos, ISPED, Noi per la Salute Tin Anselmi, Progetto Luna e WISP. Le associazioni aderenti si incontreranno a breve per sottoscrivere il documento conclusivo dell'Assemblea. I firmatari costituiscono la Convenzione per la Città di Caltanissetta allo scopo di promuovere strumenti e azioni di partecipazione utili all'interlocuzione tra cittadine, cittadini, abitanti e istituzioni. Noi abbiamo lanciato l'idea di questo percorso Prendiamoci Cura, dove Prendiamoci Cura significa non essere indifferenti nei confronti di quello che accade in città, ma anche nei confronti di quello che non accade e che invece dovrebbe accadere. Significa esercitare una cittadinanza attenta alle istituzioni locali, alla sanità, all'ambiente, allo sport, a tutto quanto. Ci siamo assunte l'onere di provare a scrivere un regolamento per iniziare appunto questo percorso con le associazioni che hanno già aderito e con altre che eventualmente vorranno aderire successivamente. Sarà un regolamento abbastanza agile, snello, serve solo a darci quelle poche linee di condotta per poter operare insieme.